Finalmente i napoletani avranno modo di capire cosa sarà Bagnoli nei prossimi anni, che non è una cosa da poco. Questo progetto che presentiamo ha un suo valore molto forte, è che praticamente è connesso integralmente al Praro. Il Praro è legge dello Stato, è decreto, quindi finalmente sappiamo e siamo convinti che quello che vedremo di qui ai prossimi anni è quello che stamattina viene presentato. Dal giugno del 2019 abbiamo cominciato a inanellare una serie di obiettivi, abbiamo raggiunto una serie di obiettivi a partire dall'approvazione del Praro, a partire dalle che aree che abbiamo fatto e che sono in corso di svolgimento, ma anche di esecuzione per quanto riguarda ad esempio la bonifica dell'amianto. È un progressivo avvicinarsi alla data finale che per quanto riguarda le bonifiche è prevista per il 2023, per quanto riguarda la rigenerazione urbana, quindi i nuovi investimenti, il nuovo edificato, parliamo del 2025, fine 2025. Quindi al fine del 2025 potremo avere il nuovo Stato di Bagnoli realizzato. Ci sono vari sviluppi, uno è un rapporto col territorio. Appena noi adesso presentiamo i risultati di questo concorso, si aprirà un confronto col territorio che durerà circa un mese, in varie tappe, per raccogliere delle idee per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo delle varie aree del parco e del sito. Parallelamente parte invece la realizzazione del planivolumetrico, che è il documento che poi costituirà l'elemento fondamentale della nuova conferenza dei servizi prevista per fine giugno, primi di luglio, la cui approvazione chiuderà tutta la parte urbanistica del progetto. Dopodiché si tratta di finire le bonifiche e cominciare a rigenerare l'area.